Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione in diretta su Di Lucca in apertura del nostro notiziario La Cronaca. La squadra mobile ha di nuovo tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione della procura della Repubblica di Lucca Giuseppe Covello, il 22enne residente a San Pietro Avico che era già stato arrestato martedì scorso nell'ambito dell'operazione Bad Boys. Gli agenti hanno notificato al giovane un ulteriore provvedimento ad un anno e sette mesi di carcere per reati contro il patrimonio commessi nel 2011 a Lucca. E sempre la squadra mobile della questura di Lucca ha denunciato una 53enne di Firenze per il reato di violazione della privacy ed ingiurie. La donna che aveva avuto una relazione con un ragazzo di Porcari di 20 anni più giovane, una volta che i due si erano lasciati e che il ragazzo era tornato con la sua ex lucchese, ha contattato quest'ultima tramite Facebook postandoli poi delle foto che ritraevano la donna fiorentina con il suo ragazzo in atteggiamenti affettuosi, foto corredate da commenti poco edificanti che prendevano in giro la ragazza lucchese. Il giovane avvisato dalla convivente ha quindi sporto denuncia in questura e la squadra mobile ha denunciato la donna 53enne fiorentina che era ancora infatuata del ragazzo di Porcari. E chiudiamo con la cronaca e parliamo di viabilità nella piana ed in particolare torniamo ad occuparci degli assi viari. Mercoledì si è tenuta un'importante riunione in provincia, ci sono delle novità, andiamo a sentire quali nel nostro servizio. Assi viari della piana, forse la tanto attesa svolta è arrivata. La riunione del tavolo tecnico che si è tenuta nella giornata di mercoledì a Palazzo Ducale per stilare il documento per la progettazione preliminare sulla viabilità della piana coordinato dalla regione si è infatti conclusa con il doppio impegno da parte di ANAS a sviluppare entro cinque mesi tutta la progettazione preliminare complessiva della rete viaria. Oltre agli assi nord-sud ed est-ovest ANAS si occuperà quindi anche degli ulteriori tratti di viabilità anche questi oggetto d'intesa fra la regione e gli enti locali che interessano i comuni di Alto Pascio, Porcari, Capannori e Lucca e consistono nella viabilità di collegamento fra il secondo lotto della variante di Alto Pascio e il casello del Frizzone il collegamento fra il casello e la zona di Carraia in adeguamento della via del Roggio e il sovrappasso ferroviario presso l'area dello scalomerci della stazione di Lucca. Il progetto preliminare sarà poi presentato al Cipe per l'individuazione della copertura finanziaria. Nel caso che con il finanziamento reso disponibile dallo Stato non si dovesse riuscire a coprire l'intero intervento la regione, affermato il presidente della provincia Stefano Baccelli, si impegnerà a trovare con l'intesa degli enti locali ulteriori risorse di finanziamento per il completamento degli interventi. Il documento approvato dal tavolo tecnico contiene inoltre una serie di indicazioni che si basano su un complesso studio territoriale effettuato dall'amministrazione provinciale che ha svolto un'attenta lettura del territorio in modo da rilevare i principali elementi da salvaguardare e o valorizzare, così da indirizzare ANAS verso la progettazione di un'infrastruttura che nasca integrata con un territorio fortemente antropizzato e che presenta rilevanti caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche. Il comune di Alto Pascio si schiara per i diritti civili La sindaco Maurizio Marchetti ha infatti accolto la richiesta dei consiglieri comunali dei giovani democratici Sara D'Ambrosio e Daniel Toci e domani esporrà all'esterno del municipio la bandiera Rainbow come segnale di solidarietà e condivisione della battaglia per i diritti civili e contro le discriminazioni anche dell'identità sessuale di qualunque cittadino proprio nella giornata della Toscana Pride E torniamo adesso a Palazzo Ducale dove ieri il presidente della provincia Stefano Baccelli ha illustrato i temi delle candidature al bando europeo per la cooperazione Italia-Francia per i progetti sul territorio chiesti alla comunità europea 3 milioni di euro da investire anche nelle infrastrutture. Marco Valdocchi La provincia di Lucca ci riprova dopo aver portato sul territorio 10 milioni di euro nel passato mandato elettorale frutto dei fondi europei ecco presentate altre candidature al bando per la cooperazione Italia-Francia che potrebbero portare ulteriori 3 milioni di euro in provincia di Lucca Sì noi l'abbiamo visto per tempo che occorreva oltre ai partner tradizionali la regione toscana piuttosto che le fondazioni bancarie cercare risorse anche nei confronti dell'Unione Europea questo diventa ancora più cruciale in un periodo di scarse risorse economiche per gli enti locali e anche per lo stesso governo nazionale portiamo a casa, ci auguriamo risultati che sono il frutto del lavoro di anni dell'ufficio Europa della provincia nel primo mandato amministrativo qualcosa come 10 milioni di euro utilizzati per lo sviluppo economico, per la cultura, per il turismo occorre presentare progetti interessanti per il nostro territorio e per la nostra comunità ma anche coerenti rispetto alla programmazione europea e quindi ai partner, in questo caso ai partner francesi ma anche ai partner della regione Liguria e della regione Sardegna Ecco, queste sono bandi particolarmente interessanti perché il 70% poi si può sviluppare proprio sull'infrastruttura Sì, la novità rispetto alla partita precedente dei bandi europei che era più dedicata a studi, ricerche, implementazione di servizi di rete è la chance di intervenire in infrastrutture per questo il progetto rispetto alle riqualificazioni delle stazioni lungo la Luca Ulla Il gate elettronico sullo scalomerci di Capanno di Porcari ma anche l'intervento sulla pieve di Montecatino Abbiamo cercato, insomma, di presentare dei progetti che possano facilmente trasformarsi in occasioni di lavoro E si è svolta mercoledì a Palazzo Sani la riunione per la nomina del nuovo presidente del sindacato provinciale albergatori di Confcommercio La scelta è ricaduta su Pietro Bonino titolare dell'hotel alla Corte degli Angeli e dell'albergo San Martino nel cuore del centro storico del capoluogo E adesso una notizia di sport La società delle mura conferma la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie A1 con il vivo auspicio di poter ripartire al meglio dopo una stagione straordinaria e di continuare a contare sul calore del pubblico bianco-rosso A breve prenderà via la nuova campagna abbonamenti La società bianco-rossa si auspica il record delle adesioni Maggiori dettagli sulle squadre che si sono iscritte al campionato di Serie A1 e notizie in merito alle mura questa sera nell'edizione delle 19 del nostro telegiornale Per questa edizione è tutto Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona giornata